Per favore, Carpentiere Scheletro, a me quel sasso non mi convincerà che la piramide mi sembra un poco pericolata. E che avevamo fatto? Mi dispiace ingegnere, ora vediamo di spostarlo, solo che sono morti un po' di scheletri sotto i sassi, come avevamo fatto? A quello ci penso io, non ti preoccupare, tanto adesso faccio 4 e 4 otto, vado ad ammazzare 400 e ne tiro su altri 500 per finire questo lavoro, per favore. Arkan, Arkan, per favore vedi quello che devi fare. E come volevo sia, Nagash, non vi preoccupate, io sono il vostro gran vizier e ci penso io a questi operari scheletri, lasciate fare a me. Grazie a tutti. Grazie a tutti.